Buongiorno Italia, oggi è martedì 23 aprile, San Giorgio, patrone di oltre 100 comuni d'Italia. Allora, innanzitutto, tanti auguri a tutti i Giorgio, a tutte le Giorge, a tutte le Giorgine che ci stanno seguendo. Oggi compie 67 anni un mito del Made in Italy, la Vespa, brevettata il 23 aprile del 1946, divenne ben presto il simbolo della rinascita del secondo depo guerra e negli anni 50 si impose tra i giovani come straordinario modello di designer, tanto che fu protagonista di molti film e primo fra tutti, ve lo ricordate, Vacanze Romani dove una splendida Audrey Hepburn girava per la città eterna insieme a Gregory Peck, proprio in sella ad una Vespa. E veniamo ai compleanni veri e propri delle persone, tanti auguri alla mia collega Maria Teresa Ruta, ci conosciamo davvero da molti anni quando conducevamo insieme il programma su Canale 5. Nata a Torino il 23 aprile del 1960, showgirl, conduttrice appunto televisiva, come dire, con quel suo sorriso che non conosceva confini, come la presentava il mitico Sandro Ciotti quando tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 insieme loro conducevano la domenica sportiva. Tanti auguri anche a Cristiano, al mio amico, al mio amico carissimo Cristiano Malgioio, nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, a Ramacca in provincia di Catania, opinionista, televisivo, ma soprattutto cantante e autore, questo sì, ci tengo a dirlo, autore di bellissime canzoni di cui alcune tra le più grandi interprete della musica italiana, come Mina, Ornella Vanoli e Patti Bravo. Concludo segnalandovi che il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore patrocinata dall'UNESCO, un'occasione per ricordare che i libri sono il cibo della nostra mente, sono la palestra del nostro cervello. Datemi retta. A più tardi.